Buongiorno mister, nella partita d'andata tra Inter e Roma è finita in pareggio ma avevamo comunque visto una buonissima prestazione da parte dei ragazzi a dimostrazione che anche quando l'Inter non ha vinto in questa stagione spesso è stata superiore all'avversario. Sì, a Roma abbiamo sicuramente disputato una buonissima partita, c'è stato il rammarico, ci hanno raggiunti alla fine su un calcio d'angolo dove non eravamo stati proprio prontissimi a prendere le giuste posizioni e loro sono stati molto scaltri a battere subito l'angolo. Per il resto la prestazione era stata sicuramente un'ottima prestazione contro un'ottima squadra che è la Roma. Una cosa che ci ha colpiti nell'ultima partita contro la Sampdoria è che anche con il punteggio sul 5-1 lei ha continuato a incitare la squadra chiedendo la massima attenzione sempre. Segno che questa squadra gioca sempre con grandissima intensità. L'obiettivo è quello di cercare sempre il massimo in tutte le partite e quindi di essere concentrati per tutti i 90 minuti più anche i minuti di recupero. Penso che i ragazzi contro la Sampdoria abbiano fatto veramente molto molto bene. Infatti comunque io gli ho fatto i complimenti perché ho visto delle bellissime giocate, delle situazioni che comunque abbiamo provato e riprovato in allenamento. Sono contento che nonostante anche numerosi cambi alla fine c'è stato un ottimo risultato, un'ottima prestazione. Va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa. Lo Scudetto è già stato conquistato ma nelle prossime partite potranno essere aggiunti ancora diversi traguardi significativi. Vantiamo già ora la miglior difesa, il miglior rendimento nelle gare casalinghe con 46 punti in 17 gare giocate, 14 delle quali vinte consecutivamente. Insomma non si toglie il piede dall'acceleratore? No, assolutamente. Anche perché è giusto onorare questa vittoria del campionato nel miglior modo possibile. Quindi cercando di giocare tutte le partite con grandissima serietà, con grandissima professionalità e come ho detto in precedenza la vittoria deve essere fissa nel nostro cervello e quindi mancano tre partite, tre partite anche con squadre importanti. Vogliamo onorare lo Scudetto conquistato e cercare di dare il massimo in campo. I grandi numeri ottenuti in classifica nelle varie statistiche sono anche il frutto di un miglioramento costante avuto da tutti i giocatori, sia dal punto di vista individuale che per quanto riguarda i meccanismi di squadra? Quando si ottengono dei risultati e comunque i numeri, anche se sono freddi, alla fine comunque dicono sempre qualcosa, testimoniano qualcosa, una crescita oppure una non crescita da parte di una squadra, di un gruppo di calciatori. Sicuramente i nostri numeri sono numeri positivi, soprattutto nella seconda parte del campionato abbiamo fatto delle cose veramente importanti. Bisogna continuare fino alla fine di questa stagione, cercando possibilmente di migliorare. L'anno scorso abbiamo chiuso con la migliore difesa e il secondo migliore attacco. Quest'anno abbiamo di nuovo la miglior difesa e abbiamo il secondo migliore attacco perché l'Atalanta ci ha superato con la vittoria sul Parma, l'ultima partita che hanno fatto. Però da qui alla fine vogliamo comunque cercare di ottenere il massimo sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dei numeri. Con l'ultima domanda, la Roma è ancora in corsa per alcuni obiettivi stagionali e scenderà sicuramente in campo con Grinta. Che avversare si aspetta domani sul campo? La Roma è un'ottima squadra, quindi ci aspettiamo una squadra che ha voglia di finire nel miglior modo possibile la stagione. Anche per loro dopo la partita contro noi avranno il derby, che è una partita molto sentita a Roma. Quindi non hanno nessuna intenzione di mollare o fare una passeggiata. Anche perché, ripeto, la Roma ha un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore come Fonseca. Quindi ci aspettiamo una bella partita, una bella partita. Nelle mie due stagioni abbiamo ottenuto solo pareggi con la Roma. Abbiamo fatto tre pareggi. Noi abbiamo ne vinto, noi abbiamo perso. Quindi è la testimonianza che c'è grandissimo equilibrio, ci sarà grandissimo equilibrio. Grazie mister. Grazie a voi. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvide di iscriverti al nostro canale YouTube.